Sì, ho avuto anch'io quell'espressione in faccia per le prime 48 ore. Ne ho avuto anche un'altra, ma solo per 15 secondi alla volta. Io sono felice per te, tu sei felice per te, è colossale. Chi ti farà la supervisione? La Catti. In effetti, forse può funzionare. Forse? Non è cambiato niente. Ti sei presentato per le ore di visita spontaneamente. E va bene, un pochino è cambiato. House, è cambiato tutto, voi due dormite insieme. Tu vuoi qualcosa da lei, tranne che ti impedisca di spaventare a morte le tue pazienti. Hai parlato con Taub. È preoccupato per te. È un deficiente. Sono preoccupato anch'io. Devo dirlo? Io voglio che funzioni. Non faccio niente di diverso. Mi ha fatto cambiare idea su un test diagnostico. Aveva ragione. Anche se il tuo default è emotivo, smettila di preoccuparti. So gestirlo. Mi dicono che... Mi dicono che...